Italia ancora in deflazione. A luglio, terzo mese di fila con il segno meno, non accadeva dal 2016. Secondo quanto rende noto l'Istat, infatti, l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo, all'ordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua. L'inflazione negativa continua a essere dovuta all'andamento dei prezzi dei beni energetici che registrano però una flessione meno marcata, da meno 12,1% a meno 10,3%. L'ampliamento della flessione si deve sia al rallentamento dei prezzi dei beni alimentari, sia all'ampliarsi del calo dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti. Hanno raggiunto quota 2,7 milioni per un valore di circa 298 miliardi di euro le domande di adesione alle moratorie sui prestiti. Lo rileva la Task Force per l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità per l'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Medio Credito Centrale e Sace. Supera quota 68 miliardi di euro il valore delle richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, attraverso Garanzia Italia di Sace, sono state concesse garanzie per 12,4 miliardi di euro su 415 richieste ricevute. Confapi e Intesa San Paolo hanno siglato un accordo per il supporto e l'assistenza alle imprese per gli interventi previsti dall'Ecobonus e dal Sismabonus, strumenti introdotti dal decreto rilancio. La partnership offre alle aziende del sistema Confapi un pacchetto di soluzioni per rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura e l'accesso a linee di finanziamento ad hoc. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera dell'edilizia di poter disporre immediatamente della liquidità necessaria per aprire i cantieri. Nei distretti industriali del Triveneto, sia le esportazioni sia le importazioni hanno segnato una riduzione più brusca rispetto al totale dell'economia. È quanto emerge dal monitor dei distretti industriali del Triveneto a fine marzo 2020, curato dalla Direzione Studi e Ricerchi Intesa San Paolo. In questo territorio prevalgono le specializzazioni produttive del sistema moda, della metalmeccanica e del sistema casa soggette a sospensione delle attività e che hanno risentito maggiormente del crollo della domanda estera. Complessivamente le esportazioni distrettuali sono calate del 5,1% le importazioni di 10,8 punti percentuali.